L'estate è arrivata e anche i ragazzi del centro nuovo Elion di Eboli si stanno godendo queste belle giornate all'insegna dello svago e del divertimento. Grazie all'organizzazione e all'amorevole cura degli infaticabili operatori del centro, anche quest'anno è stato allestito l'Elaion Village, uno spazio in cui i ragazzi possono divertirsi in mille modi. Si va dal poter fare dei tiri in porta fino al bagno in piscina, passando per i classici giochi aperitivo che di solito negli stabilimenti balneari alliedono le giornate dei bagnanti. Ti stai divertendo Petro? Si, mi sto divertendo. Che stai facendo in acqua? Sto facendo un bel tuffo. Dopo ce lo fai vedere un tuffo? Si. Vabbè faccelo vedere. Si. Bravissimo. Come ti chiami? Come ti chiami? Ti stai divertendo? A pallone hai giocato? Hai vinto o hai perso? Hai vinto, hai vinto. Bravissimo, bravissimo. Come ti chiami? A te che ti piace di più giocare a pallone, farti il bagno, ballare? Che ti piace di più? Ballare? Hai ballato prima un po'? A ballare non vai? Non ti piace ballare? A questo si vanno ad aggiungere tanti altri giochi e balli che coinvolgono tutta la struttura, creando un'atmosfera familiare e di grande coinvolgimento. Come ti chiami? Angela. Ti stai divertendo stamattina? Si. Che avete fatto? Che attività avete fatto? Avevo fatto un gioco finale. E che cos'è? Ho fatto una sedia. E il bagno non te la sei fatta? No. Perché? Quando si ferma la musica bisogna occupare la sedia, viene eliminato chi resta in piedi. 3, 2, 1, vai! E vai! Occupiamo le sedie! E vai! Occupiamo le sedie! Simona! I ragazzi sono entusiasti della loro estate e lo si vede dai loro sguardi e dai loro parole. Ti ho visto ballare prima. Che ti piace di più fare? Ballare e giocare? Che giochi stai facendo? Che hai fatto? Gioco... Giocare cento e giocare alla bambina. Cosa ti piace di più? Ho visto uno più. Ottimo. E il bagno te lo sei fatto? Si, si, ho fatto. E il bagno. Ti piace qua com'è l'ambiente e la festa? Ti piace di carico? Siamo con la nostra tele, ragazzi. Ti piace giocare? Ti piace divertirti con i ragazzi? No, io ho il mio ragazzo. Ah, il tuo ragazzo qui. Tu vieni quindi solo per stare con il tuo ragazzo? Si. Non vieni per giocare, per fare il bagno? No, no, no. Non giocare con la donna. Che donna, amici. Dimmi. Nicola, lui è uno dei migliori qui. Nicola, ci vuoi dire quanto è importante a Dele? Quanto è importante a Dele? A Dele è importantissima per Gerardo, soprattutto. Uno dei nostri. Lei ha detto che viene qui solo per il suo fidanzato. Chi? Chi è? Chi è? Dillo a lui, dillo a lui che non lo sa. È Gerardo. È cara, lei è innamoratissima di Gerardo. È Gerardo di lei? Che gli sta sempre vicino, gli vuole bene. O lo sta cercando? Dove sta Gerardo? È stata per il caffè, ma è prima immaculata. Quindi sta con l'amante? Si. Ancora una volta il centro del presidente Cosimo De Viva regala un sorriso ai suoi ospiti, sempre più partecipi di una grande famiglia chiamata Centro Nuovo. Ok, bravi insieme. Liberi il capo un bello applauso. Va bene, grazie. Eh, grazie. Ciao, ciao.